Gambino la smetta di fare sceneggiate e faccia il consigliere regionale per il bene della città, così il sindaco di Pagani, Salvatore Bottone, replica l'esponente di Fratelli d'Italia che nei giorni scorsi ha puntato l'attenzione sul bando per la scelta del direttore di AgroSolidale. Secondo Gambino quell'avviso è stato cucito addosso a qualcuno. Parliamo sempre di Gambino come fa lui, quelle sceneggiate, parliamo di Gambino, dobbiamo parlare di Gambino, ma perché non fa il consigliere regionale da un concreto aiuto al territorio, sempre parlare di lui perché lui oramai è il consigliere comunale di minoranza, di opposizione a questa amministrazione. C'è un bando, come lei diceva, è un bando aperto e lì ci sono delle caratteristiche che il consiglio di amministrazione nominato di AgroSolidale ha ritenuto di mettere in campo, che credo riguarda e prevede la norma e quindi da lì poi verrà fuori chi sarà il direttore di questa nostra nuova struttura per i servizi sociali. Ci vuole bloccare anche su questo e è libero di fare anche questo. Lui oramai ha la preveggenza. Probabilmente lui ha, ecco come fa lui tutte quelle cose scenate, probabilmente lui è rimasto in quello che era il suo modo di amministrare e che quindi doveva individuare lui tutti quelli che andavano a fare i direttori, i responsabili oppure le gare. E allora è rimasto con quel concetto. Non sa che queste cose, probabilmente non lo sapeva prima, non lo sa nemmeno adesso, le preparano i responsabili, sono loro che si devono mettere lì a lavorare per quanto riguarda anche le gare, quindi la preparazione delle gare, dei banti. Lui invece, come dicevo io prima, era deputata a dire anche dove si comprava la carta igienica e allora è rimasto con questo suo modo di fare. Però parlare di Gambina alla gente non interessa più.